Musica Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG Tanti gli argomenti ma cominciamo dai titoli Domani riapre la discarica di Cassano Ionio, i camion potranno conferire i rifiuti, l'intesa per risolvere l'emergenza trovata nel corso di un vertice in prefettura Cosenza Il Presidente della Regione Calabria Mario Liverio ha firmato il decreto primarie il 20 ottobre, un atto dovuto, dice Il Consiglio dei Ministri a seguito di accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata ha deliberato lo scioglimento per 18 mesi dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Gli 80 OS licenziati dall'annunziata hanno protestato stamattina dinanzi la sede della Direzione Generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza Preoccupa l'escalation di atti intimidatori ai danni delle aziende del Vibonese Avrebbe picchiato la nonna che lo aveva in affido per farsi consegnare del denaro, è stata la donna esasperata a rivolgersi ai carabinieri di Corigliano Legittimi provvedimenti adottati dall'ex procuratore Murone e dall'avvocato Dolcino Fabi che avvocarono l'inchiesta a guainotte Revocarono il procedimento Poseidone all'ex PM De Magistris, lo ha deciso la Corte di Cassazione Il Cosenza pesca nel mercato francese il suo nuovo attaccante, si tratta di Emmanuel Rivière, 29 anni, già calciatore di squadre a corsate della Leguan Ben ritrovati dalla redazione del TG10, dunque l'emergenza, rifiuti in primo piano nel pomeriggio vertice in prefettura a Cosenza La soluzione temporanea si è trovata, da domani riparte la discarica di Cassano, quindi saranno conferiti i rifiuti Si tratta però, lo dicevamo, di un provvedimento temporaneo, lo spiega i nostri microfoni l'assessore regionale Rizzo Fumata bianca dal vertice in prefettura a Cosenza, da domani rifiuti, l'emergenza nella città dei Bruzzi Le immagini che vedete le abbiamo girate questo pomeriggio, proprio dinanzi il palazzo di governo in pieno centro È un problema con cui fanno i conti però tutte le città calabresi Da domani si potrà tirare un sospiro di sollievo e tornare alla normalità Dal confronto tra il commissario di Cassano Loioni e il presidente del lato della provincia di Cosenza, Marcello Manna Che è anche sindaco di Rende, l'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo, lo stesso prefetto Paola Galeone Si è arrivati alla soluzione, ossia la riapertura della discarica di Cassano, dove si potranno conferire i rifiuti Abbiamo stabilito la soluzione tecnica, l'abbiamo dicisa insieme ai tecnici del comune di Cassano Per cui da domani sarà nuovamente attiva la discarica Con i conferimenti, così come avevamo stabilito nell'accordo preso con gli agricoltori Di 250 tonnellate al giorno, quindi non di più per i prossimi 10 giorni Per poter mettere a posto la situazione E poi ci rivedremo con i comitati di Cassano Proprio per stabilire anche di diminuire questi tipi di conferimento Così come era stato l'accordo che abbiamo preso un paio di giorni fa Nella riunione che avevamo già avuto in assessorato Resta comunque il sopralzo per la discarica di Cassano? Resta una volumetria che in questo momento abbiamo stabilito in 30.000 metri cubi Ma anche questo, abbiamo detto, può essere oggetto di revisione Insieme alla comunità di Cassano Così come abbiamo stabilito nell'incontro dell'altro giorno La politica adesso primarie Il 20 ottobre lo ha stabilito il presidente Oliverio Firmando un decreto, ha detto un atto dovuto Così lo ha definito, vediamo Lo aveva detto e lo ha fatto Il decreto è stato firmato dal presidente della regione, Mario Oliverio Che ha stabilito la data del 20 ottobre prossimo Per la convocazione delle elezioni primarie Il governatore procede con gli incontri pubblici In vista della annunciata ricandidatura alla guida della regione Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle Seguiranno l'esempio del governo Attueranno il modello anche in Calabria Al momento nulla è certo Ci sono molte prese di posizione e di distanza Vedremo di certo nel breve comunicato Diramato dalla cittadella Catanzaro Si parla di atto dovuto rispetto alle primarie Dal punto di vista burocratico Una volta pubblicato sul BURC il provvedimento I tempi tecnici previsti per la presentazione delle liste Saranno di 15 giorni Intanto il commissario del Partito Democratico Stefano Graziano parla di forzatura In particolare dice l'ennesima forzatura del presidente uscente Così bolla le primarie che rischia di far pagare ai calabresi la sua ostinazione Si stima infatti prosegue che in caso di svolgimento le primarie istituzionali Costeranno oltre un milione di euro A seguito di accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata locale La delibera del Consiglio dei Ministri Lo scioglimento per 18 mesi dell'ASP di Catanzaro E il contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente A una commissione di gestione straordinaria Continuiamo a parlare di sanità A Cosenza agli 80 operatori sociosanitari licenziati Dall'annunziata hanno protestato stamattina Dinanzi la sede della direzione generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza Vediamo Sono 25 anni e adesso lotteremo fino alla fine Internalizzazione è una parola difficile Ma gli ossi in servizio nell'azienda ospedaliera di Cosenza Mariano Santo e Rogliano La sanno pronunciare bene perché ce l'hanno sulla punta della lingua Almeno da 10 anni Da quando in vista di una promessa stabilizzazione Hanno sostenuto corsi e concorsi Per farsi trovare pronti e dire addio e timori di perdere il lavoro Paure che si sono concretizzate qualche giorno fa Quando hanno ricevuto una lettera di licenziamento Che fissa la fine della loro assunzione al 30 settembre prossimo Noi siamo qui a chiedere alla nuova commissaria Che si è appena insediata la dottoressa Panizzoli Cosa ci succederà? Perché noi il 5 settembre a noi è stata notificata una lettera di licenziamento collettivo Dalla nostra ditta, la Copp Service Noi siamo operatori sociosanitari Che svolgiamo questa attività da esternalizzati Da 25 anni ormai in ospedale Adesso a questo punto della nostra storia Vogliamo delle risposte Una vita tra le corsie e l'ospedale a dare assistenza ai malati E troppe volte costretti a sbattere i pugni per salvaguardare il proprio posto E pensare che l'internalizzazione consentirebbe all'azienda di risparmiare i fior di quattrini L'internalizzazione alle aziende costerebbe la metà di quanto costa questo servizio esternalizzato Che tra l'altro non può essere più esternalizzato per legge Nel 2008 siamo stati riqualificati dall'azienda stessa Previa concorso Quindi noi siamo in possesso di un attestato a livello regionale Forse siamo gli unici in Calabria ad avere questo tipo di attestato Con l'aggiunta all'Oiero noi dovevamo entrare Immediatamente subito dopo il corso Invece col blocco del turnover I vari commissari che sono succeduti Siamo ancora qui dopo 25 anni A reclamare il nostro posto di lavoro La signora Sandra, come altri, ha smontato questa mattina dopo una notte di lavoro Oggi pomeriggio arriveranno i colleghi degli altri turni Non molleranno finché non riceveranno risposte dalla direzione dell'azienda E dal commissario Cotticelli Al quale hanno chiesto un incontro giorni fa Ci devono dare delle risposte Anche perché se manchiamo noi in ospedale Chi lo fa questo servizio? Chi lo fa? Noi faremo sit-in fin quando non ci riceverà A noi ci devono ascoltare Ci devono ascoltare e vogliamo che tutta la città sappia questa nostra situazione Ancora per la sanità Purtroppo ancora parliamo di precariato La regione studia per superare il vincolo legislativo Che impedisce l'assunzione dei precari della sanità Come questa è un'altra avvertenza di cui vi abbiamo parlato molto Ossia proprio i precari del Pugliese Ciaccio a Catanzaro Che da giorni protestano e chiedono certezze sul loro futuro occupazionale Vediamo Le norme in vigore impediscono i nuovi contrattuali per il personale assunto Con contratti a tempo determinato superiore ai 48 mesi Per questo alcuni dei precari dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro Hanno già ricevuto le lettere di licenziamento Un'avvertenza che, lo ricordiamo, solo all'ospedale di Catanzaro Interessa 200 tra medici, infermieri e os Senza questi lavoratori però c'è la concreta possibilità Che i reparti vadano in tilt E che l'ospedale sia costretto a tagliare servizi e posti letto Insomma, si andrebbe ad aggravare una situazione già difficile Il commissario Cotticelli ieri non ha partecipato Al vertice alla cittadella regionale promossa al Dipartimento Salute Dal delegato alle politiche sanitarie Pacenze Insieme ai sindacati del comparto Perché il vincolo di legge non ammette ulteriori proroghe ai contratti Ma sul tavolo del commissario per la sanità calabrese È arrivato il drammatico report sulla situazione dei dipartimenti E così in serata ha aperto alla possibilità per sei mesi Per l'ospedale di Catanzaro di attingere dalle graduatorie esistenti Intanto Oliverio ha chiesto un incontro al Ministro Speranza Mentre i sindacati e il Dipartimento Salute Cercano un escapotage normativo per salvare i precari della sanità La soluzione che noi abbiamo prospettato e che prospetteremo al Ministro Sarà quella di risolvere innanzitutto il problema dell'utilizzo delle graduatorie E di assorbire, visto che il fabbisogno c'è, tutti gli idoni delle graduatorie Dopodiché prorogare almeno fino al 31 dicembre i tempi determinati E poi trovare delle soluzioni all'interno della legge finanziaria Tipo una proroga di un mese, un differimento dei termini della legge Maria Che consentirà agli attuali tempi determinati di aver raggiunto i requisiti minimi Per essere stabilizzati o per partecipare ai concorsi con le riserve Ci vedremo con le organizzazioni sindacali regionali del comparto firmatore del contratto Per divenire ad un'interpretazione autentica di questo articolo del contratto Che ha portato al licenziamento in alcune aziende, in un'azienda di alcuni lavoratori Ci spostiamo a Vibo perché preoccupa l'escalation di atti intimidatori Proprio che hanno danneggiato alcune aziende Vediamo E questa è l'area industriale di Maglierato Questo è il punto esatto dove sono sistemate, dove sono posizionate le aziende del gruppo Callipo Anche loro prese di mira da questa nuova preoccupante escalation di intimidazione La tecnica è sempre la stessa così come l'area prescelta per colpire le aziende Bottiglia con liquido incendario e proiettili sistemati al cancerno d'ingresso Aria industriale di Maglierato I messaggi e intimidatori si susseguono uno dietro l'altro Prima alla Calabra Maceri Poi alla Dasti di Catania Azienda che svolge la raccolta dei rifiuti a Vibo Valencia Adesso alle aziende della famiglia Callipo La Vercal operante nel settore della lavorazione dei metalli Quindi la Callipo divisione siderurgica Un attacco vero e proprio al sistema produttivo del Vibonese Da parte di una criminalità che chiede il conto Che vuole usurpare vigliacchamente il profitto di un'economia Che malgrado mille difficoltà riesce a segnare progetti di eccellenza Grazie ad una manciata di imprenditori Che resistono ed operano in questo martoriato territorio Se a questi si aggiungono poi i colpi di pistola esplosi l'altro giorno Contro un negozio di piante e fiori lungo la statale 18 Danneggiando alcune vetrate della porta d'ingresso Ci si rende conto che il Vibonese si trova al momento alle prese con un'escalation di azioni criminose Che non possono non preoccupare Anche per questo è stata convocata una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Voluta dal prefetto Francesco Zito Per addisporre le misure necessarie al controllo del territorio E dare risposte concrete agli imprenditori e ai commercianti sempre più preoccupati Mentre proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Vibo Valencia E la sezione provinciale di Confindustria Vibo Valencia Nell'esprimere solidarietà agli imprenditori finiti nel mirino della criminalità Ribadisce tutta la sua preoccupazione Legittimi provvedimenti adottati dall'ex procuratore Murone e dall'avvocato Dolcino Favi Che avvocarono l'inchiesta Guainotte e revocarono il procedimento Poseidone all'ex PM de Magistris lo ha deciso la Corte di Cassazione Vediamo Ricordate la vicenda dello scontro tra le procure di Salerno e Catanzaro Al centro la revoca dell'inchiesta Poseidone e la vocazione del procedimento Guainotte All'ex PM Luigi de Magistris Da parte dell'ex procuratore aggiunto di Catanzaro Salvatore Murone E dall'avvocato generale Dolcino Favi Una storia iniziata nel 2007 con le perquisizioni e sequestri Effettuati negli uffici giudiziali di Catanzaro Dopo le denunce presentate dall'attuale sindaco di Napoli Il quale sosteneva che gli fossero state sottratte le indagini illegittimamente Adesso la Cassazione mette la parola fine al procedimento nel corso del quale I magistrati catanzaresi furono indagati per abuso d'ufficio La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti annullato senza rinvio La sentenza della Corte d'Appello di Salerno Che aveva dichiarato il non doversi a procedere per intervenuta prescrizione Riformando parzialmente la sentenza di primo grado Con la quale nel 2016 erano stati assolti i magistrati catanzaresi Adesso dunque dopo la sentenza della Cassazione Diventa irrevocabile la sentenza del Tribune di Salerno Che legittima gli atti adottati dall'ex procuratore aggiunto di Catanzaro E dall'avvocato generale nei confronti di De Magistris Insomma i comportamenti dell'attuale sindaco di Napoli sarebbero stati illegittimi Quindi per questo erano giusti i provvedimenti di revoca e avocazione Dei procedimenti Weenot e Poseidon Intanto De Magistris aspetta le motivazioni della sentenza della Cassazione Anche se aggiunge la storia non può essere cambiata Mentre l'ex procuratore aggiunto di Catanzaro Salvatore Murone Sottolinea che la soluzione di primo grado confermata dalla Cassazione Pone fine ad un lungo periodo di bugie e mistificazioni E dimostra che le vicende successe a De Magistris Non sono il frutto di congiure e complotti Ma solo le conseguenze del suo modo di fare Il pubblico ministero già stigmatizzato dai provvedimenti di carriera Che lo hanno colpito portandolo fuori dalla magistratura Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi Un neonato di appena 28 giorni è deceduto nell'ospedale di Soverato Dove il piccolo era stato portato dai genitori originari di San Sostene Il neonato è arrivato in condizioni disperate Nonostante i tentativi per salvarlo È morto poco dopo il ricovero Ora la magistratura ha aperto un fascicolo Per far luce sulle cause della morte Da due anni ricattava, minacciava e malmenava l'anziana nonna Che lo aveva in affido per questioni di danaro Dopo l'ennesima aggressione La 67enne ha denunciato il nipote ai carabinieri di Corigliano Che lo hanno rinchiuso in una comunità Il 17enne di Cassano all'Oioneo Ha accusato di estorsione e lesioni personali aggravate È stata depositata la motivazione della sentenza Che ha prosciolto uno dei medici dell'ospedale di Cosenza Ha accusato di falso per aver annotato nella cartella clinica Della piccola Chloe Grano La bimba di 5 mesi morta nell'aprile 2014 L'avvenuta effettuazione di esame ecografico Di cui non è mai stata trovata traccia Il giudice di Cosenza ha contestualmente disposto La trasmissione degli atti al PM Affinché evagli la posizione di un altro medico Che in realtà effettuò l'ecografia La squadra mobile e la guardia di finanza di Crotone Ha eseguito un fermo nei confronti di due cittadini ucraini Di 31 e 26 anni Ritenuti gli scafisti dello sbarco Avvenuto nel porto della città lunedì scorso Subito dopo lo sbarco di 39 uomini di nazionalità irachena Le indagini si sono concentrate sui due ucraini Gli unici di nazionalità diversa Insieme alle testimonianze Hanno permesso di giungere al provvedimento di fermo A Rocca Imperiale per un interessante esperimento turistico I giovani che abitano all'estero Ma con parenti italiani sono stati coinvolti Proprio a Rocca Imperiale In un interessante progetto rivolto al turismo Vediamo di cosa si tratta Un gruppo di studenti Figli di emigrati italiani all'estero Per un mese soggiornerà in diversi luoghi della Calabria La terra dove un tempo hanno vissuto i loro nonni e bisdonni E che fino ad oggi avevano conosciuto solo attraverso la narrazione di aneddoti e storie Far conoscere la terra del racconto E' l'obiettivo del progetto Scuola Calabria La rete dei giovani calabresi nel mondo Che sta toccando i luoghi più suggestivi della nostra regione E ha fatto tappa anche a Rocca Imperiale Questo progetto parte da lontano Tutto questo accade perché facciamo parte di un circuito Che è i borghi più belli d'Italia Quindi i risultati si vedono C'è stato un ingremendo per quanto riguarda le visite al castello Far parte dell'associazione dei borghi sta apportando risultati Da premettere che è circa un anno e mezzo che ne facciamo parte Quindi non è da tanto E il fatto di avere questi riconoscimenti ci rende orgogliosi Perché stanno arrivando i frutti, stanno arrivando i premi Un'occasione importante per Rocca Imperiale Che ha avuto modo di far conoscere le bellezze storiche, artistiche ed architettoniche Ad un nutrito gruppo di giovani Che di fatto diventeranno gli ambasciatori della Calabria nel mondo Il nostro è un borgo medioevale Sorto alle pentici in un maniero importante Che storicamente possiamo dire per grandezza È il primo della Calabria Ma la visita non è soltanto da un punto di vista visivo Ma è anche culturale E di relazionarsi diciamo con le persone che abitano il borgo L'evento ha rivestito anche un'importanza fondamentale Per i ragazzi di Rocca Imperiale Che hanno avuto modo di confrontarsi con coetani Che vivono in altre parti del mondo Lo scopo del progetto è creare una rete Tra i giovani calabresi e i giovani originari calabresi Ma residenti in otto paesi esteri Proprio per radicare il loro senso di appartenenza a questa terra E per dare un'immagine della Calabria sempre più positiva Ma soprattutto per portare a conoscere a questi ragazzi I nostri beni culturali, i nostri sapori, le nostre tradizioni, le nostre origini E soprattutto quelli che sono i prodotti di questa terra Come il nostro limone IGP Da Rocca Imperiale a Diamante Per il Blasonato Festival del Peperoncino Vediamo È la festa più piccante dell'anno Quella dedicata al peperoncino A Diamante nel cuore della riviera dei Cedri Sulla costa tirrenica cosentina Cinque giorni dedicati alla spezia conosciuta in tutto il mondo Regina della prima serata, la piccante Eva Engar Dopo l'inaugurazione ufficiale La madrina della 27esima edizione Accompagnata da sua maestà, Re Peperoncino Ha visitato gli stand del lungomare Per degustare le specialità dolci e piccanti Presentate nella mostra a mercato Mangiare Mediterraneo È iniziata così la grande festa di settembre Che ogni anno attrae migliaia di visitatori Molti gli eventi in programma fino a domenica Tra cui 10 show cooking con chef prestigiosi di Calabria Stand della col diretti con campagna amica Guinness dei primati con un bocconotto di due quintali Una mostra a mercato con 150 stand Con tutte le specialità made in Calabria E cibo di strada proveniente da tutta Italia Peperoncino ma anche il meglio delle eccellenze italiane Due persone su tre nel mondo mangiano il peperoncino Dopo il sale marino Il peperoncino è l'alimento più consumato al mondo Non c'è solo il peperoncino calabrese Dobbiamo dire che sono almeno 2000 varietà di peperoncini Che noi esponiamo in questa mostra a diamante Perché il festival è una esplorazione a 360 gradi Del pianeta peperoncino E grande interesse ha suscitato la mostra dedicata ai peperoncini Provenienti da tutto il mondo La mostra consiste nel cercare di far vedere a tutti i visitatori La grande varietà che c'è sul mondo del peperoncino Perché normalmente la gente tende a pensare Che il peperoncino mare è il classico peperoncino a cornetto E invece nel mondo ci sono molte varietà Molti colori, molti sapori diversi, piccantezze diverse E cerchiamo di far conoscere alla gente Insomma le varietà che ci stanno Lo sport adesso è il cosenza calcio Perché il cosenza proprio pesca nel mercato francese E il suo nuovo attaccante Si tratta di Emmanuel Riviere 29 anni Vediamo Eccolo Emmanuel Riviere L'ultimo tassello della campagna acquisti del cosenza calcio Mentre sostiene la prima seduta di allenamento Con la casacca rosso-blu Sotto lo sguardo di curiosi e appassionati Assipati sulle tribune del San Vito Marulla Per vedere l'ultimo arrivo in ordine di tempo Ride, scherza con i suoi nuovi compagni Osservato speciale di Mr. Braia e del DS E proprio il direttore Stefano Trinchera Si è impegnato a mercato chiuso Ad individuare fra i calciatori svincolati Il profilo giusto da mettere a disposizione Del tecnico Braia Non un giocatore qualsiasi aveva detto Ma motivato e in linea con le caratteristiche tecniche Richieste dall'allenatore Forza e velocità L'identikit corrisponde al giocatore francese Xanetienne, Monaco e Newcastle Che nelle ultime due stagioni Ha vestito la maglia del Mets Certo, un livello superiore agli standard del Cosenza Ma come già successo con la ZAR Il mercato, se si hanno abilità e pazienza Può riservare sorprese del genere L'attaccante ha realizzato ben 277 presenze Fra i professionisti e 58 reti Giocando quasi sempre da attaccante puro E talvolta da esterno A 29 anni, la nuova esperienza A caccia del rilancio in una piazza Che è già surriscaldata dal suo arrivo Dalle polemiche per il mancato acquisto D'Inzola e Tuptà All'entusiasmo per l'ingaggio di caratura internazionale Il passo è stato breve E adesso ci si aspetta una risposta del pubblico Per la gara con il Pescara Dopo l'importante affluenza All'esordio con la Salernitana Chiudiamo con le previsioni del tempo Ritorno all'alta pressione Che garantirà un weekend di bel tempo Con clima caldo Domani sereno ovunque Con temperatura in graduale aumento Domani poco mosso o mosso il tirreno Mosso o molto mosso lo ionio Venti moderati dai quadranti settentrionali Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com E la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria E' tutto ci perdiamo qui Grazie per essere stati con noi Grazie a Regia Michele Cava Immessi in Onda A Giuseppe Costanzo Noi vi auguriamo un buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti